Il conflitto in Medio Oriente Annuncia il ministero degli esteri del Qatar Doha ha ricevuto un'iniziale risposta positiva da Hamas Sulla bozza di accordo stilata al vertice di Parigi Anche Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco Ed intanto a Gaza la vita è sempre più difficile In particolare Medici Senza Frontiera È profondamente preoccupata per la crescente mancanza di assistenza ostetrica Per le cure mediche pre e post natali Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità Sono circa 50.000 le donne incinte nella striscia 20.000 bambini sono nati dall'inizio della guerra Restiamo in Medio Oriente Sanzioni economiche contro quattro coloni israeliani In Cis Giordania le imposte il presidente statunitense Joe Biden Facendo infuriare Tel Aviv I coloni erano stati coinvolti in violenze Contro i palestinesi della Cis Giordania O in tentativi di distruggere le loro proprietà Prosegue la protesta degli agricoltori Ieri Bruxelles è stata assediata da oltre 1.000 trattori Questa non è l'Europa che vogliamo È stato il grido dei più di 2.000 manifestanti Arrivati da mezzo continente Le aperture annunciate dalla Commissione sui terreni a Maggese E le tutele sull'import a Dazio Zero dall'Ucraina Non sono state ritenute sufficienti Nuova denuncia di Ilaria Salis L'insegnante italiana detenuta in Ungheria Dopo l'udienza di lunedì Interrogata in carcere Costretta a firmare un verbale in ungherese Nella lettera inviata al nostro ambasciatore a Budapest La donna ha spiegato che nel documento Sarebbero riportate le sue dichiarazioni Sulle condizioni di prigionia Ancora un naufragio nelle acque antistanti Lampedusa La motovedetta CP 289 della Guardia Costiera Ha tratto in salvo 49 tra bengalese, ivoriani, guineani e senegalesi Secondo i migranti già sbarcati sul molo Favarolo Vi sarebbero persone disperse Per la traversata sul barchino di 8 metri affondato Avrebbero pagato 2.000 dinari tunisini Circa 600 euro A Milano indagano i carabinieri Dopo il ritrovamento del bimbo di un mese Abbandonato nell'androne di un palazzo Accanto al piccolo Un biglietto scritto in arabo Nel quale appunto si diceva La mamma è morta Non posso occuparmi di lui Il neonato era in buone condizioni E vestito con abiti puliti È di due morti ed oltre 200 feriti Il bilancio della violenta esplosione Che ha interessato il quartiere di Embakas A Nairobi, capitale del Kenya A provocare il disastro Lo scoppio di un camion carico di gas Un'enorme lingua di fuoco Ha investito gli edifici vicini Provocando vittime Distruggendo abitazioni In Turchia e Istanbul Sono stati liberati gli ostaggi Della fabbrica statunitense Procter & Gamble Sequestrati nel pomeriggio di ieri Da un uomo che diceva di essere Filo palestinese Le forze di polizia Hanno prima cercato una trattativa Poi hanno arrestato l'uomo Il rapitore era armato La Corea del Nord Ha lanciato stamattina Diversi missili da cruciera Verso il Mar Giallo Lo segnala lo Stato Maggiore Sud Coreano Che spiega di aver registrato Il lancio di numerosi vettori Intorno alle 11 ora locale Si tratta del quarto lancio Di missili cruise Dall'inizio dell'anno E' iniziato a Londra Il processo a Greta Thunberg La giovane attivista Per la difesa dell'ambiente Sotto accusa Per aver bloccato Assieme ad altri manifestanti Lo scorso ottobre L'ingresso dell'albergo Dove si svolgeva La conferenza Dei vertici Dell'industria petrolifera E del gas E oggi festa della presentazione del Signore al Tempio Si celebra la giornata mondiale della vita consacrata Alle 17.30 Papa Francesco presiderà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro Sarà possibile seguire la messa con il Papa Qui su TV 2000 Colpo grosso della Ferrari Che ha annunciato l'arrivo di Lewis Hamilton A Maranello al volante della Rossa Il sette volte campione del mondo Sarà nella squadra del cavallino rampante Dal prossimo anno Con questo è tutto Vi lascio alla Santa Messa L'appuntamento con il Tg torna alle 12 Vi aspettiamo Buona giornata A Maranello al volante della Rossa